Di sicuro ci troviamo in un lungo periodo di stasi, là dove presentarvi progetti nuovi diventa difficile perché non voglio presentarvi progetti nuovi che nascono e muoiono dopo pochissimo tempo. Questo perché il mercato delle cripto è fermo e quindi capite bene che qualsiasi progetto che nasce basandosi sulla blockchain e sulle cripto è a rischio. Effettivamente ho fatto tanti video su Pukki, probabilmente perché lo ritengo uno dei giochi al momento più affidabili e dove effettivamente con una spesa esigua si può comunque andare a guadagnare o perlomeno a rischiare davvero 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 poco. Questo è quello che mi sono detto io, poi chiaramente voi valutate la situazione. Di che cosa si tratta? Ho fatto dei video, vatteli a vedere, li trovi lì sopra. Vatteli a vedere perché credo che sia molto importante adesso scoprire questo gioco Pukki che non si tratta di un sito di scommesse, bensì un sito di NFT legati al calcio dove puoi fare le tue previsioni e una volta che hai acquistato un NFT, ti basta solo quello, potrai per sempre poter cercare di vincere e scalare le classifiche dei migliori predictor del mondo. Quando ci sono aggiunte vuol dire che il progetto è comunque sostenuto e sta andando bene. Tant'è che possiamo andare a vedere immediatamente che cosa è successo e le persone che già conoscono questo progetto avranno subito visto le differenze che ci sono rispetto a quando ve l'ho presentato. Se vuoi vedere comunque di che cosa si tratta personalmente ancora non l'hai visto, c'è il link qui sotto in descrizione. La prima cosa che ci può balzare all'occhio è appunto l'energia, l'energia che serve per fare le nostre predictions. Ne vedete 8 perché già l'ho fatta, ma c'è un più. Che cos'è questo più? Praticamente adesso abbiamo la possibilità, seppur si rifilli ogni volta in maniera automatica, adesso abbiamo la possibilità di aumentare il cap massimo, non solo con il livello delle palline, ma volendo anche con spesa di matic. Infatti se andiamo su increase forever, qui possiamo vedere che your max energy 129 se spendiamo 6.5 matic in questo caso. Se io volessi arrivare a 130 e quindi avere un totale di 13 bettate, perché praticamente non sono bettate, 13 previsioni, perché ogni previsione costa 10 energia, dovrei spendere 13 matic, che effettivamente è una stupidaggine che potrei spendere benissimo, ma il fatto è che io ho ancora delle palline nella mia collezione che possono essere livellate e quindi aspetto per vedere un attimo come si smuove la situazione. Però se voi doveste arrivare ad un cap dove per pochissimi punti voi non doveste poter fare una prediction in più, beh vi consiglio di valutare magari la spesa di raggiungere cifra tonda. Questo perché? Perché ci sono alcune partite che ci richiedono magari meno punti spesi e quindi possiamo andarli magari a sommare facendoci il calcolo anche settimanale ad altre partite. Ad esempio la Champions League qui, io mi sono dimenticato totalmente di fare le prediction per la Serie A, quindi io ho iniziato a fare 8 previsioni su questo match day. Quindi vedete che io ho fatto i miei risultati, risultati molto generici e che vi sconsiglio di seguire, però se noi andiamo sul match day noi potremo vedere che abbiamo insomma tante altre alternative tra cui questa giornata di Champions League e il match day 2 di Champions League. Avendo la possibilità potrei farne un'altra in più, io qui mi sono semplicemente avvantaggiato con i punti. Ok? Quindi ne ho fatte 8 qua e 4 qui. Quando si refillerà l'energia avrò la possibilità di continuare con le prediction. Ci sono altre novità. Se noi andiamo a vedere, lo potete trovare anche voi, le in-game features di settembre, ci sono tanti nuovi updates, tra cui un update che vi avevo annunciato mi sembra al primo video e che comunque risulta molto interessante ma bisogna capire bene il funzionamento, che è l'ascensione. L'ascensione. Che cos'è l'ascensione? Qualora noi avessimo due palle della stessa rarità e qualora noi le dovessimo max kpare, potremmo collegarle, potremmo ascendere in due, si fondono e andrebbero a creare una pallina di rarità maggiore. Quindi ad esempio delle palline di rarità comune, due palline portate al max kp livello, andrebbero a formare una pallina rara. Questo però avrà dei costi che quindi ovviamente non è gratuito perché altrimenti chiunque avrebbe potuto prendere common e common che ha un prezzo sicuramente differente perché 45 matic più 45 matic sono 90, quindi avrebbero portato a una pallina da 180 matic. Però ovviamente non è così semplice perché costerà comunque un extra farlo. Però comunque ci sarà la possibilità di farlo e probabilmente, anzi quasi sicuramente, ci costerà di meno. Il fatto sta che noi ci porteremo però le percentuali della pallina principale. Quindi noi sceglieremo una pallina principale, avremo una secondaria, la secondaria servirà per fare aumentare di rarità il resto e quindi poter aumentare il livello della pallina e via dicendo. A me sinceramente questa opzione non è che mi interessi più di tanto, sono più interessato agli stickers. Gli stickers sono un'aggiunta, anche questa, che rende molto 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 più complesso tutto quanto. Diventa più complesso perché? Perché se ritorniamo qui, gli stickers avranno varie rarità, quindi aggiungeranno percentuali ai punteggi che facciamo, ma saranno random, quindi ci saranno degli stickers che saranno molto 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 specifici. E quindi diciamo di base quello che uno dovrebbe andare a fare è acquistare pacchetti di stickers e cercare il pacchetto di sticker che... e cercare scusate gli sticker nei pacchetti che più si addicono alle nostre bettate. Perché potrebbero uscire ad esempio, che ne so, sul pareggio 1-1, un bonus. Però dobbiamo vedere se poi ci adattiamo. In più hanno rarità diverse. Io sinceramente per non andare veramente a spendere troppo e via dicendo, quello che probabilmente farò sarà andare a comprare uno standard pack e uno starter pack che finiscono nell'immediato. Si capisce ovviamente perché. Perché il booster pack e il mega pack ovviamente hanno tantissimi stickers, però hanno anche una spesa non irrisoria. Quindi tante novità, tante meccaniche nuove, che non dispiacciono. Bisogna vedere queste meccaniche nuove e quanto andranno ad inficiare sui risultati finali. È vero pure che, a quanto ho capito, vengono ribilanciate, se vi andate a leggere i pochi updates di settembre, ribilanciare la distribuzione delle rewards, dove a rarità più alta, fino a una certa soglia di classifica, si prende leggermente di più. Ma questo, a mio parere, è anche giusto perché se io spendo per una pallina leggendaria voglio rientrare del mio costo il prima possibile. Comunque, a prescindere, io se oggi dovessi cominciare, quello che farei è quello che ho fatto prima. Andrei a prendere direttamente una rara, che la trovo la migliore pallina al momento, con la migliore ottimizzazione e bilanciamento, o al massimo una epica. La common, sinceramente, eviterei pure, ma giusto se voglio giochicchiare così. Comunque, una rara o una epica. E poi prendermi un pack starter, un pack standard degli stickers. Questo perché? Perché le palline, in base alla loro rarità, possono mettere tot stickers. Una common non ne può avere quattro, una rara ne può avere sei, ad esempio, e a salire. Quindi, questo è tutto al momento. Ci saranno sicuramente altre novità, verranno aggiunte altre cose. Tra le tante, la possibilità di rerollare e resettare i bonus che abbiamo messo ogni volta che saliamo di livello. Vi ripeto che, al momento, acquistare una pallina vi darà una pallina con una squadra. Vi faccio vedere perché, magari, se non avete mai giocato, non sapete. Ad esempio, io adesso ho la Lega Italiana e il Club Torino. Prendere nel marketplace adesso una pallina vi dà una pallina che avrà un campionato di quelli che sono iniziati adesso europei, quindi di quelli più conosciuti. Può essere italiana, spagnola, inglese, via dicendo. Ed una squadra, appunto, che conosciamo. Quindi, solitamente, immagino che noi andremo a pronosticare partite di campionati che conosciamo meglio, piuttosto che di campionati come quello argentino, brasiliano, e via dicendo. Non so quali sono stati i vostri risultati. Io, per adesso, ho recuperato pienamente la spesa della Common e sto già recuperando parte della rara. Dovrei essere quasi al 50%, forse leggermente di meno, forse il 40%. Però, insomma, io so che col tempo recupererò questa spesa, a meno che proprio non faccia come quest'ultima settimana e come già ho fatto un'altra volta, perché io, purtroppo, con la testa sono così, sono molto distratto. A meno che non smetta di giocare matematicamente parlando, il recupero della spesa e il successivo guadagno ci sarà. Quindi, ragazzi, vi aspetto sul nostro Discord, sempre qui sotto in descrizione, e fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Ciao!